E' un po' difficile, c'è, si riconosca Modello, tutto, comunque è partito, l'ho fatto partire, questo è stato un po' di gioco, un po' di gioco. Annette, non vediamo il piede. Venga, arriva. Ratti? Ratti, arriva. bravo come ah troppo lunga ah bisogna sai la fine è come un troppo il battimento il meno si il momento è quando sei vicino poi il 7 figura è tutto diverso non è come bravo bravo e poi non è prima che mi scambia per un giornalista meglio vede dai dai non è prima che mi scambia per un giornalista o televisione è abbastanza immaginale esatto ma gli dice no tranquillo che mi scambia da spiegare la tua sono giorni sono in camera ma che però come si mi scambia occhio Presto, pressing, belle azioni, occhio eh, vai, buono, va bene così, anche provare da fuori. Luca, miglio Luca, bravo Iaci, anche provare da fuori, nel tempo troppo non tanto. Cosa è successo? Eh no, ok, ok, non ho voluto. Occhio eh, va bene, bravi, bravi ragazzi, così tiriamo. Vai Ferra, bravo Ferra, bello, cavolo, bravi, bravo Ale, bravo Ferra, bravo Ferra. Ho visto un bel tiro, scelta un po', vuol dire che non sta bene la cosa, però... Sto di fortuna ci vuoi, però... Eh, più o meno qua è... Esatto. Eh, buono, è esperto che sei. Beh, anche un po' di schlittura, buono. È un po' di schlittura, sì. Beh, non è un po' di schlittura, sì. È inutile. Cosa è quella cosa vuoi dire? No, non c'è un po' di schlittura, ma che vanno la sasera. Occhio, quando sto sempre guardando il tempo eh, non credo che ti avvicino. Occhio, andiamo bene bene, mi ha sempre dato laterale. Bello! Bello Cava, bello! Bravo! Bravo Cava! Bravo Favalli! Blanda Cava! Vai dai dai! Vai dai da cazzo ragazzi, dovete stare concentrati! A te c'è una segnata Cava, poi ho capito che Cava! Blanda Cava! Blanda Cava! Blanda Cava! Blanda Cava! Blanda Cava! Occhio, questi tiri! In me ne la mano! Blanda Cava! Blanda Cava! Blanda Cava! Ancora, ancora! Blanda Cava! Dagli lo scarico Cava! Dagli lo scarico… Bravo! Vai giurale! Giroiamola! Giriamola! Beh vuole, bello! Non c'è questo secondo me la cosa. Da un po' il modulo che ci chiamo. Grande difesa. Abra la mia tarda. C'è un modulo. Mancano 30 secondi. Facciamo una azione. Abra la mia tarda. Ah no, 7. 7. Quanto aveva finito dopo come ho visto? un po' gli stuporini. vede lì chiamala che è tua vede fatti sentire che è tua quella cambio cambio 8 bel modulo non fate la bella scelta per me la bella di Natale è perfetta così niente da dire stare attenti ecco stare attenti ai tiri da lontano così per il resto ne prendi anche la lì tranquillo vai eh lama vai vai sei se voglia chi vuoi fuori o no vado fuori vado fuori vado fuori vado fuori dai lama che rocca vai lama suono filo filo faccio se vuoi Questa è bella Bello, bello, molto bello Bravo Luca Bravo Luca Bellissimo Sono tre, giusto Tu hai bisogno che ti chiami Ok 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 Faccio Destra, bravissimo Tendi, tendi Esci, esci Passo Calma Grazie Pagni Ok Faccio Scopi Adesso non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno venga ok venga lì vai alba e attacca scala bene sotto uno che taglia sub aspetta va con uno qua questo io vai loca arriva loca vai vai angolo va bene devo tirare in prima dai mettiamoci a posto dai loca torna mezzo al campo ando soli noi, soli noi, arriva adesso vai Yaki, vai Yaki, vai Yaki vai Yaki guarda va bene bravo Chava così, bravissimo dai ragazzi siamo qua siamo qua dai 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 ragazzi Sì, dai io, ma, oh, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Carlo, sei solo! Vamo ora! Iniva! Vamo, dà rullo! Vamo, dà rullo! Vamo, bravo! Vım,착 v psychologically! Vengo! Vengo! Bravo! Valeu! Vengo, vengo! Siamo a minuto 14 Vai, 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 provato Siamo a minuto 14 Occhio, occhio Siamo a minuto 14 Siamo a minuto 14 Sì, sì, è vero. Fa la palla, Iacchi, dai. Vabbè. Dai, dai, dai. Luca, Paco, Luca. Iacchi ce l'hai largo là, è largo là. Fa un giro un po' in alto, Iacchi ce l'ho. Dai, dai, andiamo, dai, andiamo. Dai, andiamo, 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 andiamo. No. Sperra, gira, sperra. Lasciala, lasciala. No, no, vedi? Guarda, sono solo. Venga, andiamo. Dica bene, deciditi. Bravo, andiamo. Ma cosa la sua palla è? Vai in fondo, vai in fondo. Dai, dai, hai ragione ferro qua, dai. Più deciso, dai. Sono in mezzo gli attivi. Dai, 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 dai. C'è alto, c'è alto, dai. Dai, dai. Vai. E' alto, andiamo, e dai. T stuff? Vai, dai, dai... Yes. Scusa Rocca Dai dai Cos'è? Dai non discutere Davanti alla palla Guarda il tuo passaggio Forca miseria Effettivamente la netta Dai giusto Dai non c'è niente da dire Però bisogna stare attenti Ma c'è la VAR qua Dai Come? Con te la VAR ce l'abbiamo La? La Moviola La Moviola Sì sì Comunque il tuo passaggio c'era adesso Sì sì Non ho visto che l'avessi trovato dall'ultimo Stavo in un bambino Ma faccia che stai parlando però È piuttosto netto Sì qua abbiamo la VAR, è vero? Cosa che dovrebbero inserirlo Occhio Cosa? Buono Sono 4 da 0 Inutile a discutere Non c'è Ma c'è Non c'è Non c'è No, sta in guida al naso Rai 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 oh bravo bravo ferra bravissimo occhio bravo Filippo se va bene a voi però però stai calmo eh ma cosa cazzo vuol dire sbagliato ironico così Sì, però ti sei per valoso, va bene. Sì, che ha partito, ha iniziato tutto il posto. Dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Davale, ma bene o stessa. Dai, 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 raga, dai. Muoviamoci. Bene, bene intervento, bravo Rocca. 25. 25. Manca tre minuti. Vai, vai, vai. Salta la piede, salta la piede. Salta la piede, salta la piede. Vai, vai. Rossa. Bravo. Era giusto come detto. C'hai fatto? Cosa hai fatto? Il coglione lì con la sega ha due zampe. Sei bene? Ciao con te. Io? Cosa hai fatto? Baco, entra per anno. Guarda la macchina. Ma stai bene? Solo sono male a nasi. Ok. Eh, raga, dai. Non mi fa. Passo! Aspettalo. No, no, è chiaro, è chiaro. Se no non eri qua a scherzare. Almente sarei stato a scherzare lo stesso. No, va bene, va bene. Te non devo dire che ti faccia più male. Se no dire questo. Calma! 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 Stai gio, eh? No, va bene, va bene. Grazie. лучше tu! Calma, calma! Calma, calma! Lo stesso! Gli rimane in childhood. Cosa hai! Hanno due o tre anni fa. Donda la è quadra di in grado! Vieni, è come grande rapporto. Che gira! bravo tanto, dai 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 raga non perdiamo palle se le rimette ma cos'è? occhio bravo Bede bravo Bede Filo, ci sei? occhio, occhio, occhio aspettalo, aspettalo aspettalo Oca, non far farlo ah no inventa delle robe fissa tutto guarda che c'è il Carlone guarda che c'è l'uovo guarda che c'è l'ottaggio guarda che c'è l'ottaggio lo so non so non so non bisogna che ti cambi un tempo torna in mezzo Mocci, torna in mezzo Mocci, non è tuo l'altro attenzione occhio torna in mezzo bravi ma c'è qua Yachi bravo e duro oh c'è il Pornat dai chiedate lì in fronte solo uno di là Yachi parti di la no raga andiamo insieme non facciamo Buono, buono, buono. Ya! Carlo, Carlo, vieni a chi di andare la sua seconda. Attacca da qua, eh! Andiamo a te! Ando! Desci un pelo Ale se vuoi. Dai, raga! Dai, dai! Calma, calma, accompagniamo! Vedi, stai zitto, cazzo! Porti sfiga! E' bella! Venga! Giro, giro, giro! Stai in mezzo! Vai in esterno! Capito? C'è il mister oggi, ma anche domani! Ciao, ciao! C'è la zona, eh, oh! Capito? Noi dobbiamo giocare per tenere schiacciare, con la punta sui loro forti. Così loro si spaziano. massimo. Fuori! Buongiorno! 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 Duongiorno! No, Filippo! Non me lo sentivo di venire a Gatwell, le ho detto. Dai Pacco, battiamo raga, battiamo veloci. Calmo, 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 è street, fermi, fermi. Dai 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 dai. Calmo eh, calmo. Esci uno, esci Carlo, Carlo. Bravo Ale. Angolo, angolo. Qualcuno vuole il cambio? La domanda più... Il secondo non l'ho sentito. Bravo Ale, stiamo... Sei solo, ti gira di qui. Bravissimo. Senza fallo, torna, torna Loca, torna Loca. No, 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 no. Non nemmai fallo. Pacco, c'è l'uomo per terra, Pacco. Tira, Carlo. Palla, grazie. Quanto è iniziata? Cinque minuti. Non uscire. Ragazzo, botta, botta. Su Carlo, dagli ancora un metro, Carlo. Un calcio. Mori, mori. Mori, mori. Mori, mori. Mori, mori. Mori, mori. È comunque fuoriare. Stiamo perdendo. Abbiamo tre uomini fuori. No, che non siamo mai fuori. Cioè, non... Sì, non era uscita del tutto. Ma doveva finché non stiamo dentro? Bravo, Doca. Facciamo un po' di perdita. Dio santo. Stacco. Stacco? Alessio, gas看. Guarda. Paola è buona. Poi si sede pallo, eh, vai a fare pallo! Arbitro, ferro, 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 non quello, non lo faccio. Aspetta che devi metterlo a fare. Dobbiamo essere un po' più... No, no, stai tu sulla ribattuta. Eh, destra! Alè, ripreso? No, no, no! Sì, sì, sì! Sì, sì! Non giocare! Bravo! Fuori! Buono! Bene, bene! Bravo Iaci! Tu bisogna che ti chiami dopo quanto tempo. Buono, dopo quanto vuoi che ti chiami. Lunga Ale! Ognuno su un uomo, ognuno su un uomo, solo uno! Sette minuti! Sette! 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 Sì! Bene, molto bene! Piacci, basso il titolo! Valle, vai avanti! Solo, sei solo! Esci! Valle, valle, valle! Bravo, Chava! Bravo, il tuo cuore! Bravo, Alton! 5-0 Sì, è il soldato! Dai, belli lardi! Sì, è il soldato! Buona soldato! Buona soldato! Buona crescita! Buona crescita! Tutta gli occhi, tutta, tutta! Tutta gli occhi, tutta, tutta! No! No, dai, dai! Mettici qua! Sì, è il cartellino, eh! Sì, è il cartellino, eh! Sì, è il cartellino, eh! Sì, è il cartellino! No, smette! Sì, è il cartellino! Cazzo, il moce dominatore dell'area di rigola! No, Ale, Ale! È giusto così! Ale, abbassi schiena! Vede, vede! Ehi! Siamo alti! Alti, prestali subito! Vede, vede, vede! Vede, vede, vede! Vai, dai! Vede, vede, vede! Calma, non fallo, non fallo! Allontare! Vede, vede! Buono! Esci, esci! Vede, vede, vede! Vede, vede! Vede, vede! Calma, calma! Aspetta, i bambini! Sono qui da sinistra, pilota! Vai, dai, dai! Vai, dai, dai, dai! Vai, dai, dai, dai! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Aspetta, eh! In un minuto siamo? Siamo in un minuto 10. Siamo 5-0, no? Non so! Se non sbaglio! Siamo in un minuto 10. Siamo in un minuto 10. Siamo in un minuto 10. Oh, i gatti! Siamo in un minuto 10. Dai, facciamoci vedere, dai! Dai, ragazzi, proviamoci almeno a farci vedere. Dai, ragazzi, agitiamolo! Quanto c'è? Solo, Iacchi! Torna, 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 loca! 5-0 dovremmo essere. Tre io, uno... Come? Ah, sei tra tu, uno... uno... ferro... No, non è ferro, è più che segno. Uno, due, ok. E si, 5-0. Aspetta, quando gli arriva vai. Come vai la gamba? Ma come hai fatto a stirarti? Non so. Stira l'interno. No, nel senso, giocando, allenandoti o... Guardi che vuoi il tuo atto. Poi ci si fermo due settimane, non è passato. Mi sono in macchina. Ah, cavolo! Ti vedete che non ti ha ancora passato. Qual è questo? Aspetta, torna, torna, non serve, non serve, torna! Non serve, non serve, non serve, non serve. Ah, è un'altra. Allora, è un giusto, non serve, non serve, non serve. Tira! Uno, a capio. Sti punto, sì, comunque. Vai, Leo! Tanto copri! Bravo, Carlo! Bravo, Leo! Torna, 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 torna. Presa! Non ci niente da innovo. Presa! Presa! Coppite gli anche, coppite gli anche già! Occhio! Tira, tira, tira! Bravo Filippo! Ma è vero? Ma è vero? Ma è vero? No, anch'io ho notato con il miglioramento. Non dovevo vissi bucare. Mi chiedono. Speriamo l'anno prossimo. Speriamo l'anno prossimo. Almeno giocare prima. Quest'anno ho troppi pareggi. Se no, ci vanno. Che cazzo! Non è qua? No! Va bene, va bene. Vediamo! Vediamo! Vado! 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 Bravo Carlo! Bravo! Sto venendo via il ciotto. Sto venendo via il tetto. 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 Cioè è normale per favore. Poi ti venendo via il tetto. Mettiamoci a posto. Non usciamo. Carlo vuoi cambio? Carlo vuoi cambio? Carlo vuoi cambio? Eh, un bel gol, dai. L'ho fatto io, eh? Eh dai, un bel gol a questo, dai. Siamo sportivi. Sto tipo di loro, dai. Eh, c'eri quasi. L'angolata bene. Dai così, che dobbiamo prendere. Oh, aiuta! Bene, dai. Bene, dai. Ho fatto molto. È 6 minuti. Siamo 6-1 o 5-1. Dovrebbe essere 5-1. Sì sì, 5-1. Sì sì, 5-1. Questa è quella della nazionale. Mi sembri... Quella è della nazionale dei regoli. Quella... E' che largo di qua! Se non è luce, sono migliore. Però può essere. Esattamente la scuola... Allora... E' un bel gol per te. E' un bel gol. E' un bel gol... Eh, 25 minuti. guarda che siamo 5-1 guarda che diamo un'altra sono qua 10-0 tieno tieno sennò che è 4-4 via via fermi non so stupidamente ve станano guarda abbiamo inchiava alti grazie guarda 5-1 Vabbè dai un 1 dai 60 un gol dai Quattro Ah è la retta Mi sapevo stare da là Bravo Ho giustato Sì Ho giustato la retta No, 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 no. 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 No, no, no.